buonasera e benvenuti qui per questa partita di serie c1 maschile girone b fra Sporting Hornets e Eco City fischio d'inizio parte il match quarto minuto di gioco calcio di punizione Eco City Jacopelli alla battuta parte il numero 29 tiro davanti sulla linea ancora rosati palla in avanti Jacopelli aggancia bene ma rientra su di lui calante si accende l'enfasi del match ormai numero 9 si gira molto bene grande battuta è risposta del porterone provo a uscire Filipponi a perdere il pallone numero 4 si appoggia intanto al Patrizio palla direttamente sulla traversa vicinissimo al vantaggio Eco City calcio di punizione Hornets sulla battuta numero 4 è uno schema palla di punizione per stoccata ma capisce tutto Patrizio per due sul pallone serve Barontini che porta la palla sul fondo entra in area Barontini ottima uscita di Piermarini ancora 0-0 ancora angolo battuta forte in mezzo e c'è il gol il gol del vantaggio con Cardoso 1-0 ecco City serve sul secondo palo Patrizio Patrizio l'ha battuta ancora risposta di Marini italiani per golante alla stoccata di nuovo per golante attenzione staccati Jacopo sfida fra Capitani la vince numero 12 intanto stoccata grandissima risposta però di Kinkio cerca di sopra il numero 7 ottaviani ancora da galanti serve numero 7 angolato per stoccata stavolta destra stoccata la battuta potentissima però centrale mancano 4 secondi a fine primo tempo lanciano direttamente in avanti a cercare Patrizio fa buona guardia galante ma finisce qui la prima frazione di gioco sul punteggio di 1-0 per ecco City perde il pallone Filipponi punta il portiere Filipponi ma lo prende il piano e torna lì e c'è il gara del pareggio 1-1 con Filipponi Terrenzi cerca di passare Cardoso mezza dura la palla rimane lì e c'è il gol di Terrenzi sfrutta un impallo la palla va a lui che non sbaglia 2-1 ecco City palla fuori per Patrizio battuta potente e c'è il gol di Barontini 3-1 Filipponi se ne fa la errata riconquistata Rosati che punta il portiere Rosati non colpisce bene salva la difesa salì 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 Galante tenta la battuta potentissima, ancora la risposta ottima del portiere di Iegositi, palla ancora Filipponi, sempre per soccata, ancora Filipponi, ultimi secondi del match, battuta forte in mezzo, respinge, palla fuori per Galante, puntata, tiro fuori e finisce qui. Vince Iegositi, 3-1.